Questa mattina alle 8.30 oltre 200 alunni della scuola Narvesa di Via Fonda hanno collaudato il nuovo Pedibus, il percorso evidenziato con segnaletiche e cartelli che parte dal Parco San Carlo e passa per le vie Mameli, Toti e Gabelli. Il progetto Pedibus, promosso dall'amministrazione comunale, intende rafforzare i contenuti della mobilità sostenibile, soprattutto fra i ragazzi e gli studenti. L'assessore alla mobilità Bruno Zille. È un'esperienza che questa scuola sta portando avanti grazie alle maestre, grazie ai genitori. Noi spieghiamo quanto prima che questo modello possa essere esteso anche nelle altre scuole, perché riteniamo che dal punto di vista educativo dobbiamo cominciare dai bambini, ma soprattutto che questi possano riappropriarsi di quelli che sono gli spazi pubblici e possano muoversi in autonomia per andare a scuola. Lo abbiamo fatto segnando dei percorsi, un percorso in sicurezza e come tale riteniamo che, se verrà esteso come ci auguriamo, possa essere un modello educativo e una modalità per potersi muovere e quindi in modo sostenibile. Cominciamo dalle scuole. Erano presenti anche i funzionari comunali che hanno progettato il percorso, l'assessore all'ambiente Nicola Conficoni e l'assessore all'istruzione Flavia Rubino. Per noi è stato importante oggi dimostrare che l'amministrazione vuole una città a misura di bambino. La scuola si impegna ad educare dei piccoli cittadini, sia con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma anche attraverso un'educazione stradale e inoltre un'educazione al vivere bene, senza inquinamento e con un maggiore autonomia.